Bentornati, allora in questo video vi racconto cosa ne penso di questa prima lunga e stenuante serata di Sanremo ormai sono le due passate, forse si vede dall'orologio e sono quindi qui a raccogliere le prime impressioni dopo aver sentito tutte e trenta le canzoni, le canzoni in gara allora partiamo da un concetto e da un disclaimer importante io sono un po' vecchiotto perché Sanremo possa essere il mio spettacolo di riferimento o perché possa immaginare di trovarvi chissà quale stravolgente rivelazione musicale ma questo non toglie comunque che mi sia preso l'impegno di affrontare questa prima serata con la massima onestà intellettuale, senza pregiudizi assolutamente e cercando come sempre di dirvi quello che penso in completa autonomia, in completa libertà allora partiamo da un dato positivo il dato positivo che c'è stato quest'anno è stato quello vocale cioè in confronto all'anno scorso che non avevo seguito tutto il festival per esempio ho visto una buona parte dei cantanti in gara e c'erano dei problemi proprio vocali veramente enormi tant'è vero che l'ho scritto anche un post in cui dicevo questi ragazzi vogliono fare i cantanti ma non hanno la più palle di idee di come si usi lo strumento che hanno in gola ed è stato praticamente il festival il triunfo dell'autotune se non sapete cosa è l'autotune alla fine vi lascio un link con un video che ho registrato in proposito in questa edizione invece devo dire insomma che il livello vocale è stato decisamente più alto e i cantanti quantomeno cantavano cantavano tutti tranne tutti quelli che fanno parte della schiera diciamo del freestyle o dell'hip hop che tra l'altro hanno un'emissione veramente balorda perché pur essendo in massima parte autori dei testi bofonchiano regolarmente tutto quello che dicono che regolarmente poi non si capisce è assurdo che un genere come l'hip hop che ha sicuramente più nei testi molto più che nella musica il proprio centro e la propria zona di interesse poi non faccia ascoltare bene i testi che vengono scritti comunque al netto di questo direi che il problema principale è che il livello compositivo è stato piuttosto basso ripeto nessuno cerca da Sanremo chissà quali idee chissà quali intuizioni musicali sconvolgenti forse non cerchiamo ad un livello di nessun genere musicale oggi come oggi a maggior ragione non possiamo certo pretendere a Sanremo però comunque ciò non toglie che anche una canzone pop può essere scritta bene e può avere comunque un qualcosa di catchy un qualcosa di accattivante qualcosa che non per niente poi la porta ad essere magari nelle prime posizioni della classifica invece devo dire che stavolta il livello compositivo della canzone era piuttosto basso pur nell'ambito del pop in più con un aggravante che salvo due casi cioè la canzone di Dio Dato e la canzone dei Negra Amaro che sono state scritte da una sola persona e salvo un paio di casi in cui c'erano due autori e ci può stare a fine scrivere una canzone due autori magari uno al testo per la musica o anche a quattro mani il testo o quattro mani la musica ci sta assolutamente tutte le altre canzoni sono state scritte da tre quattro, cinque, sei in due casi e addirittura da sette autori sette beh io se devo pensare che sette professionisti sono seduti lì per scrivere una canzone vorrei sperare almeno che tirino fuori chissà quale capolavoro indicibile invece devo dire no che decisamente capolavori stasera non ne ho sentiti ovviamente lo dico soprattutto perché è un po' il di fuori del del settore il fatto che ci siano sette autori di una canzone non vuol dire che ci sono state sette persone scrivere la canzone statisticamente la canzone la scrivono due barra tre persone non di più gli altri spesso sono i produttori o in certi casi gli arrangiatori o in certi casi altre figure che spesso volentieri si prendono dei meriti autoriali e anche dei diritti d'autore che poi insomma la CIA mamma CIA è la cosa che interessa a tutti noi che facciamo questo lavoro per professione si prendono dei meriti che sicuramente non sono loro e soprattutto con i giovani artisti sui quali magari una casa psicografica punta spesso e volentieri c'è lo zampino di qualcuno che vede aggiunto il proprio nome ma senza aver fattivamente partecipato alla creazione della canzone per cui vi dico capolavori francamente non ne ho sentiti le canzoni che mi sono piaciute di più sono state quelle di Fiora alla Mannoia di Rama di Diodato e di Alfa questo ragazzo giovanissimo che ancorché pur volendo fare un omaggio floreale a una delle orchestrali ci ha fatto sapere che hanno conosciuto la differenza tra un violino e un contrabbasso insomma malnetto di questa ripaglianza la canzone mi è l'ho trovata abbastanza godibile poi sono state altre 5-6 canzoni accettabili gradevoli qualcuna probabilmente insomma farà anche la propria strada nella classifica non più la classifica c'è una volta l'evento di dischi ma probabilmente nella classifica degli ascolti degli streaming perché poi oggi come avete sentito si parla molto più degli streaming che dei dischi venduti anche perché i dischi d'oro di oggi non sono i dischi d'oro di 40 anni fa insomma il valore è stato sensibilmente abbassato perché ovviamente quelle cifre di dischi non si vendono più e quindi insomma il disco d'oro il disco d'oro di Gianni Morandi degli anni 60 non è come un disco d'oro di Rama del 2023 ecco giusto per mettere i puntini sulle i sono stato anche abbastanza deluso dagli arrangiamenti francamente allora voi sapete ne abbiamo già parlato altre volte il direttore d'orchestra che già saremo non dirige un tubo perché la musica non ha particolare necessità di essere diretta hanno il click in cuffia hanno la batteria l'hanno provata tante volte fila via diritta come una spada per cui non c'è nessuna necessità musicale il direttore d'orchestra però il direttore d'orchestra è quello che ha scritto l'arrangiamento e devo dire insomma che gli arrangiamenti sono stati abbastanza deludenti l'unico che mi è piaciuto è stato quello della canzone di Darjean D'Amico che non era neanche male che è la canzone tra quelle che non mi è dispiaciuta però l'arrangiatore Enzo Campagnoli insomma solidissimo e ottimo professionista nel settore da tanti anni e devo dire che è stato l'arrangiamento che ho trovato decisamente più interessante e quindi è chiaro che uno della mia generazione mediamente guarda una manifestazione come questa passando sempre tra due tipi di commenti o ma questo chi è chi l'ha mai visto oppure oh ma questo è ancora in giro per cui livello abbastanza basso ci sono alcune canzoni così brutte tipo quella di Gali tipo quella di The Colors talmente brutte che potrebbero avere molto molto successo e magari anche vincere stendo un velo pietoso sui ricchi e poveri che lo capisco perché non si dedichi a una più onorevole degnitosa età avanzata per cui vediamo cosa succede nei prossimi giorni ma dubito che questa edizione resterà francamente negli annali beh visto che sono stato alzato fino a quasi le due e mezza di notte almeno iscrivetevi al canale e attivate la campanella